La libreria si chiama leggere 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 perché è una libreria leggere perché quando si legge un libro spesso la testa diventa leggera e anche perché le mamme che vengono qui si alleggeriscono del peso di essere magari chiuso in casa con la pioggia come un bambino piccolo e poi perché siamo un po' leggeri nel nostro impatto sul pianeta